Gli agenti della polizia del commissariato di Città di Castello hanno denunciato un uomo del 1992 per circonvenzione di incapace e violazione degli obblighi di assistenza familiare. In pratica lo straniero aveva indotto la moglie a sposarlo per regolarizzare la sua posizione nel territorio nazionale ma dopo il fatidico sì l'uomo si era allontanato dall'abitazione facendo perdere le proprietà e omettendo da adempere anche agli obblighi di assistenza. La donna approvata dal raggiro si è presentata agli uffici del commissariato raccontando agli agenti di aver conosciuto lo straniero a seguito della separazione dall'ex marito avviando poi con lo stesso straniero una convivenza. Quando il nuovo compagno l'aveva rappresentato che il suo visto era scaduto e che l'unica soluzione per regolarizzare la sua posizione era quella di sposarsi la donna aveva avviato le pratiche di divorzio. Una volta convonata a nozze lo straniero si era subito recato in questura per richiedere il permesso di soggiorno ottenuto nei primi mesi del 2022. La donna ha poi spiegato agli agenti che con i nuovi documenti il marito aveva completamente cambiato atteggiamento facendola sentire inadeguata e manipolandola fino al momento in cui lo scorso marzo l'uomo si era allontanato dall'abitazione portando con sé i soldi e il documento di soggiorno. La vittima resasi conto del raggiro aveva chiesto aiuto proprio alla polizia e la signora ha raccontato anche gli agenti che dal momento dell'allontanamento non aveva avuto più notizia del marito che aveva anche omesso di versare il contributo necessario al mantenimento della famiglia. Per questi motivi i poliziotti hanno denunciato il giovane.